Buongiorno ragazzi sono il gioco su una nuovissima video sul mio canale ragazzi oggi siamo qui col quarto episodio che è ricominciato il giro delle top 5 Oggi sono qui insieme a Vrat e Jumbo perché le top 5 vabbè sono nostre Bella rega E per chi non li conosce vabbè sono due sniper come me fanno video simpaticiuzzi tranne Vrat che non li fa simpatici quindi bastate solo da tutti Però sono l'unico sniper quindi Esatto è quello più forte da te Eh ok bravo Ragazzi prima di cominciare il top ci tengo a sottolineare il fatto che loro due non sanno le clip che andanno a vedere Perché così almeno un po' più simpatica la cosa E settimana prossima ci vedremo tutti quanti sempre di domenica penso sul canale però di Vrat Quindi dovete già iscrivervi sia quello di Vrat e di Junge No no solo quello di Vrat Ok ragazzi eccoci qua l'assurdo questo posto Holy shit dude Tripla abbastanza random Tripla ob Tripla one bullet grandissimo Ma quanto è ignorante quella cosa Oddio La ragazza si è fatto singola prima poi il tripla e poi con l'altra per la six on su grind complimenti a Lore al occhi Poi guardate Poi guardate Poi guardate Poi invece abbiamo la ora sempre su ride No non era Vabbè su ride ha fatto six on Questo è come quella di prima six on solo che questo è come un pelo meglio perché non è sparretta diciamo così Complimenti la per la terza posizione Complimenti la per la bella Dio ogni volta che vedo quella scena io voglio Qua abbiamo rega tanke che ha fatto una squadra Tra l'altro qua ho rallentato solo la tripla e cioè perché poi non sapevo come reali interna Le altre parti c'è dovevo tipo Bravo Velocizzare Sì che sai Sì che sai Sì che sai Sì che sai Che sarà Comunque ragazzi Comunque ragazzi complimentone a tutti i player li trovate in descrizione Comunque E nulla ragazzi Spero che le top 5 vi siano piaciute Ricordatevi di passare assolutamente dei player e dei cani di Giorgio e Brad Ragazzi ricordatevi di passarci ovviamente le clip sull'email gjwtop5gmail.com Passateci le clip rigorosamente link di youtube Perché sennò poi non so scrivervi e ho già il link del canale E nulla ragazzi Da Giorgio è tutto Bella Bella Sì Ciao